Grazie a tutti. Ragazzi, aiuto. Così ci sono tre persone in live. Muta, muta. Ma è mutata. No, non è mutata, però. Muta, muta. Ma è smutata. No, andiamo. Ah, fissi a tua madre. Ah, andiamo. Ah, sì? Bro, il senno questo. Sì, tua madre. Dillo, è dietro ai miei carambo. È nostro amico delle guardie. Andiamo, andiamo di qua. Andiamo ad orto.